Gli effetti dell'emergenza coronavirus con gli imprenditori che prevedono cali in media del 29% del fatturato di marzo sono diffusi in tutti i settori delle piccole imprese del nord, particolarmente pesanti i cali di fatturato mensili previsti dal settore del trasporto persone, meno 68%, dalle imprese interessate dalla domanda turistica, meno 37%, da quelle del settore alimentare, meno 33%, oltre che dalle aziende della moda e dei servizi. Secondo la rilevazione di confartigianato, la crisi nelle micro e piccole imprese si manifesta soprattutto con il calo delle vendite, segnalata dal 48% degli intervistati, con la cancellazione di fiere ed eventi, con la mancata o ritardata consegna di merce al cliente, la cancellazione degli ordini e la cancellazione di incontri d'affari. Sul fronte dei fattori produttivi, il 32% delle micro e piccole imprese intervistate da confartigianato segnala la mancata o ritardata fornitura di materie prime, il 19% ha ridotto l'orario di lavoro, il 13% registra ulteriori complessità di natura sanitaria legate ad autorizzazioni e permessi rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, l'11% denuncia disagi nella gestione delle trasferte del personale e il 10% lamenta l'assenza dei dipendenti. Purtroppo sono dati che tendono a peggiorare, anche a seguito delle nuove restrizioni, commenta Giancarlo Grasso, presidente di confartigianato di Liguria, e per questo viene chiesta chiarezza e interventi commisurati alla gravità della situazione, partecipando attivamente a tutti i momenti di confronto nazionali e regionali con proposte concrete.